E adesso dovrei avere il collegamento con l'ingresso dell'auditorium perché sta per arrivare questa grande star e se vi ricordate c'è questo suo grande fan, tanto lei non capisce l'italiano, parla l'inglese, che si è travestito da bodyguard per starle vicino. Vediamo un po'. Ragazzi ci siete laggiù? Sì, ci siamo! Raffaella! Eh, Giuseppe! Giuseppe! Senti, fermati! Ascoltami un attimo! Mi senti Giuseppe? Sì, sì! No, te Walter mi senti, voglio dire Giuseppe, salutami se mi senti. Perfetto. Ascolta, mi raccomando, devi fare la guardia del corpo, non fare il fan perché lei gira la macchina e se ne va. Ok. Guarda d'intorno, scortala per bene e difendila se ci fosse qualche fan troppo caloroso, troppo irruente, va bene? Ok, va bene. Ok, va Giuseppe, è la serata, è la tua! Vai, vai! Vedo che sta arrivando una macchina, eccola qua! Qua dentro c'è Meghan Gayle, il sogno di Giuseppe! Vai! Eccola qua! E ovviamente ci sono anche... Stanno salendo i gradivi dell'auditorio, protetta anche da Massimo Borg! Bravo Giuseppe! Bravo Giuseppe! Così Giuseppe! Dai, 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 dai! Dai, 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 dai! Via, via, via! Bravo Giuseppe, ma sembra che abbia fatto la guardia del corpo da sempre, bravissimo! Lasciatela respirare! Bravissimo Giuseppe! Sta scortando Massimo Borg anche, ma insomma... Sì, ne... Per me! Fortissimo sei Giuseppe, vai così! ecco qua Megan Gale scortata da quattro forbidabili bodyguards buonasera Megan come stai? vieni qua do you like your bodyguards? mi piace molto hai imparato pure l'italiano no 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 un poco allora senti Megan insieme a Cristian e a Massimo hai fatto questo film che si intitola bodyguards che uscirà il 22 dicembre in tutta Italia e ti sei divertita a fare questo film con loro? un po' inglesesco did you enjoy doing this picture? si mi fai parlare in inglese mi fai parlare in inglese allora c'è anche Cindy Crawford in questo film questa famosissima modella la regia di Neri Parenti si va bene adesso tutto il cast è lungo ma volevo dire Cindy Crawford com'è? was she nice with you? è stata carina con te? ah non l'ha mai incontrata nel film hanno girato in periodi diversi come è? sì periodi diversi Cindy Crawford è carina beh Cindy Crawford devo dire che mi ha trovato molto attraente molto attraente specialmente da qua in su esattamente no è stata poi c'è Anna Falchi c'è Anna Falchi c'è Victoria Silvestre è difficile c'è Viaggio Izzo beh una serie di attori incredibili e questo film uscirà appunto il 22 dicembre che è venerdì prossimo che è venerdì prossimo un po' prima del Natale do you know this bodyguard? his name is Giuseppe it's a new one I never met this one te lo presento ciao ciao come stai? bene grazie è staccato, freddo eh non ti avvicinare troppo eh sei Walter va bene Walter non lo conosci? ciao nice to meet you grazie dopo sei anni che stai a far caramba non te conosci manco me come è lei australiana eh scusa buoni buoni allora adesso vediamo alcune immagini del film vediamo ah le vediamo? ah le vediamo ma vediamole eh? guardiamole sì non piace davvero i just feel like i won't get you out of my mind i feel love mi arrelli immediatamente faccia attenzione che qui fuori ci sono tre miei colleghi pecora marmotta e romolo detto cobra bodyguardiania falchi mentre fa il calendario nuda tutta nuda monolis seguriti oh mamma mia come sto nooo e va sei tanna veramente pensate che affiderei Cindy Crawford dopo i quattro massimo massimo wow wow e tu li fa testa a me lei deve proteggere Camilla ma io devo fare il bodyguard ad un cane ma che c'hai al posto delle zine? un parabole come ti chiama mucaccia? paolo fermate ma dove hai o sto coso? Cindy sei viva sei vive vegeta bodyguards con loro nessuno è al sicuro bellissimo un successo di natale assicurato che risolverà le sorti del cinema italiano insieme ovviamente anche ad alcuni altri film che abbiamo presentato ma questo ragazzi ci scommetto e vai bene Megan io vorrei che tu adesso lanciassi la sfera si sei felice? si molto molto si uh i have to give something to you i think ha detto che ti deve dare qualcosa? si aspetta aspetta si si giuseppe scusa ma praticamente facciamo una cosa gli ha dato un anello non parliamo di matrimonio parliamo di fidanzamento e sai che cosa vogliamo fare? ti lasciamo un minuto da solo con Megan si andiamoci grazie 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 stai tranquilla giuseppe sei contento? ascolta no ma io lo so come sono fatte le sorprese anch'io ho avuto un colpo due tre giorni fa ascolta mi tu sai cosa c'è scritto in quell'anello? no ecco toglielo un attimo è un ricordo bellissimo che ti ha voluto dare non si toglie più ma gli si sono gonfiate anche le dita no no lascialo lascialo te ne accorgerai dopo con un po' eccolo eccolo Raffaella ok si sono gonfiate anche le dita no per dire dentro all'anello no è per lui c'è scritto Megan e Giuseppe ti ricordo sei fidanzato? eh? meno male contento? adesso tornerai con il segno di questo incontro sei felice? troppo troppo felice ciao Giuseppe ti ringrazio e ti saluto con un ovviamente buon Natale ben regalo di Natale eh? ne valza la pena di fare scuola di Bodyguards ora venite con me apriamo perché è arrivato il momento grazie Giulia che dai la sfera a Megan che ti tengo io il microfono perché è ora Megan Gayle una delle protagoniste di Bodyguards interpretato ovviamente da grande Massimo Boldi e dal fantastico Cristian De Sica lancerà la sfera e naturalmente uno di voi vincerà 5 premi go ahead throw it bacio a tutti stasera è dolcissima ecco qua è partito il nostro computer no i sei premi ho sbagliato e quindi sta girando e vediamo dove va a bussare la fortuna do you go to Australia for Christmas? ah va in Australia ah è certo va insieme alla tua famiglia ok un, due, tre beh ragazzi numero perfetto numero perfetto Cristian De Sica Massimo Boldi e Megan Gayle con gli auguri per Bodyguards in tutta Italia il 22 dicembre ciao grazie ciao Massimo bella arrivederci ciao bella sweet and lovely grazie a te di cuorissimo arrivederci ragazzi ciao